Qual è lo strumento principale di un pittore? Il pennello, mi risponderete voi. Ma cosa succederebbe se un artista fosse nata senza braccia e gambe? Credereste ancora nella sua capacità di dipingere? Preparatevi a ricredervi perché sto per presentarvi Sarah Biffen, una pittrice le cui opere furono ammirate persino dalla regina Vittoria. Di lei non si può dire che sia uno dei grandi nomi dell'arte. Io stessa, che ho studiato arte, confesso di essere imbattuta nella sua storia solo di recente. Persino il suo nome viene trascritto alternativamente Biffen, Biffin o Bethen. Il suo è uno di quei casi in cui il talento è reso straordinario dalle capacità di andare oltre le proprie condizioni fisiche. Sarah, infatti, era affetta dalla nascita dalla Focomelia, una rara malformazione per cui gli arti superiori e inferiori sono assenti o solo abbozzati. Da qui il nome che dal greco significa artuda foca. Se la malattia è invalidante ai nostri giorni, potete solo immaginare come potesse essere nel 1784, quando la nostra protagonista venne alla luce. Terza di cinque figli, la sua era una famiglia modesta del Somerset, una contea al confine con la Cornovaglia. A quei tempi non esistevano sussidi per i disabili e molti di questi bambini venivano abbandonati dai genitori perché impossibilitati a mantenerli. Ma questo non fu il caso di Sarah, che venne cresciuta assieme ai suoi fratelli e sorelle e con loro venne anche istruita. La sua determinazione fu chiara fin dall'infanzia, riuscendo a fare con la bocca quello che gli altri facevano con le mani. Non imparò solo a scrivere, ma col tempo fu in grado anche di cucire e ricamare. Il suo destino non fu immune dalla moda dei fenomeni di baraccone tanto popolari in Inghilterra. A 13 anni seguì l'impresario Immanuel Dukes, che la espose in spettacoli e fiere con il nome di Meraviglia senza arti o Ottava Meraviglia. La si vede raffigurata sotto forma di manifesto pubblicitario all'interno di una stampa del 1807, avente come soggetto la Fiera di San Bartolomeo, la più importante fiera di strada di Londra che si teneva ogni anno il 24 di agosto nell'area del mercato di Smithfield tuttora esistente. Fu probabilmente in questo periodo che si dedicò all'arte del disegno, realizzando con la bocca piccoli dipinti raffiguranti paesaggi o miniature che Dukes vendeva per tre guinei ciascuno. Sara condusse in questo modo i successivi 16 anni della sua vita, sostenendo a distanza la propria famiglia, mandando loro i proventi del suo lavoro, circa 5 sterline l'anno. Non sopravvive una documentazione medica di Sara, ma grazie agli autoritratti che sono giunti fino a noi se vince che il suo fosse un caso molto grave di fuccomolia che colpiva anche gli arti inferiori che appaiono completamente assenti o ridotti ad un moncone. A 25 anni pare superasse di poco i 90 centimetri di altezza. Grazie alle scoperte legate alla scienza e alla medicina, la disabilità nel 1800 non era più oggetto di superstizione e paura, almeno nelle grandi città, ma ispirava sempre un misto di curiosità e ridicolo. Occhiatine e commenti poco piacevoli, che giungevano sicuramente alle sue orecchie, si scontravano con la personalità simpatica e amichevole di Sara, grazie alla quale si conquistò facilmente fedeli sostenitori. A 24 anni incontrò quello che divenne il suo più grande benefattore, George Douglas Conte di Morton. Conquistato dal suo talento combinato con la sua già incredibile condizione fisica, si premurò di finanziare le lezioni private di disegno con lo stimato ritrattista William Marshall Craig, insegnante alla Royal Academy of Arts, in cui le donne non erano ammesse. La sua carriera decollò, abbandonò il mondo dei freak show e aprì uno studio a Bond Street nel centro di Londra, dove riuscì a mantenersi completamente solo grazie ai suoi ingaggi. Viaggiò oltre i confini della Gran Bretagna, in particolare a Bruxelles, dove divenne miniaturista ufficiale del re d'Olanda. La miniatura è un genere di ritratto caratterizzato da un alto livello di dettaglio concentrato su una piccola superficie. Si dipingevano oggetti personali come anelli, bracciali, tabacchiere, ma soprattutto piccoli ritratti formato tascabile. Il loro uso era dei più svariati, mostrare il volto di un potenziale pretendente, portare con sé il ricordo di un proprio caro durante un viaggio o durante le campagne di guerra, ricordare i lineamenti di un congiunto scomparso. Si offrivano come pegno d'amore o segno di amicizia. Furono molto popolari nell'alta società dal rinascimento fino all'avvento della fotografia, che di fatto ne rimpiazzò l'uso. I più modesti erano realizzati su un supporto di vetro, porcellano o metallo, ma i più preziosi presentavano una base sottilissima di avorio che esaltava al massimo il pallone dell'incarnato. Che Sara Biffen fosse in grado di padroneggiare questa tecnica pittorica con il solo uso della bocca rivela la portata della sua abilità artistica. Di sé stessa dichiarò di essere avvantaggiata rispetto ai colleghi pittori con le braccia, perché sicuramente era più facile dipingere con un pennello corto che con un bastone lungo. Nei suoi autoritratti lo si scorge appuntato sulla manica a sbuffo del moncone, del braccio sinistro, dove lo recuperava agilmente, inclinandosi poi in avanti per dipingere, fin quasi a toccare il tavolo di lavoro. La sua fama era tale che persino Charles Dickens la menzionò all'interno di quattro suoi romanzi, anche se, purtroppo, i riferimenti alla sua persona erano legati alla sua disabilità, piuttosto che al suo talento. Nel 1821 le fu assegnata una medaglia d'argento dalla Society of Arts e il suo lavoro fu esposto in ambienti tra cui la stessa Royal Academy, con almeno quattro decenni di vantaggio rispetto alle prime donne a cui verrà riconosciuto lo stesso merito. Il 6 settembre 1824 si sposa con l'impiegato di banca Stephen Wright, ma il matrimonio si rivelò presto un fallimento e i due si separarono ancora prima di celebrare il loro primo anniversario. Tuttavia, Sarah, da questo momento in poi, continuò a firmare le sue opere con il suo cognome da sposata. La sua parabola ascendente iniziò ad arrestarsi nel 1827 in seguito alla morte del suo principale sostenitore, il conte di Morton. Senza di lui, le commissioni iniziarono inesorabilmente a calare, senza contare che a 43 anni la sua vista iniziò a peggiorare, così come le sue condizioni fisiche generali. Divenne una donna dall'aspetto pesante, anche se sempre attenta alla moda. Si trasferì dapprima a Brighton sulla costa meridionale per poi approdare a Liverpool per sfuggire ai suoi debiti. Nonostante la vista debole, continuò a dipingere. Due anni prima di morire, ebbe l'onore di veder posare per lei la regina Vittoria. Il delizioso ritratto Un acquarello su carta la immortale a quasi 30 anni e dopo 11 anni di regno. Per sostenerla, la regina le accordò una pensione di 12 sterline l'anno e acquistò anche un ritratto di suo padre, il duca di Kent, dipinto dalla Biffen nel 1839. Morì a Liverpool all'età di 66 anni il 2 ottobre del 1850. La sua tomba è oggi perduta, ma si è preservato il suo epitaffio che riportava. Pochi hanno attraversato la valle della vita come la defunta, figlia di una fortuna sfortunata, eppure dotata di doti mentali non comuni, di singolari talenti artistici. Migliaia di persone sono state gratificate dalle abili produzioni della sua matita. La sua versatile conversazione e i suoi modi piacevoli suscitavano l'ammirazione di tutti. Nonostante la sua prolifica produzione artistica e la fama che l'accompagnò in vita, la straordinaria vita di Sarah Biffin è stata in gran parte dimenticata. Riscoperta dalla critica moderna, nel 2019 una sua opera è stata battuta all'asta per l'eccezionale cifra di oltre 137.000 sterline, di gran lunga superiore alla stima di qualsiasi miniatura del periodo. La sua storia, stimolante e per determinazione successo artistico, le hanno fatto guadagnare molti nuovi ammiratori. E soprattutto la gratificazione di essere apprezzata per quello che avrebbe desiderato di più, come artista di straordinario talento. Grazie.